Non te ne devo pescare entra 5 o 6 Assolutamente 0 O 6 o 0 Parte lui e ne peschi 0 O 6 o 0 Parte tu e ne peschi 6 Bello 7800 posto Gioca Gioca Sì Ma poi queste le volte Gioca Per vedere se lo sai Tutti in maniera popo Gioca con me Il zantino Il zantino Il zantino E' la nuzza Non è il mio Sarà dire la nuzza 2 E' la nuzza 6 E' come piede Entra 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 Oh, vieni il show! Ti può giocare. Passa. Evo caffè. Oh, attimo. Attico. Dichiaro Firewall. Vabbè. Vabbè. Ok, quindi tre carte. E' scatto. No, il Draco. E' scatto. E' inizio. Perfetto. E' scatto. E' scatto. Tutto e due. E' scatto. E' scatto. E' scatto. E' una bellissima amica. E' scatto. E' scatto. E' scatto. E' scatto. E' scatto. Forse dire che effetto ha mostro. E' di costo. E' di costo. Un Draco. E' scatto. Vabbè effetto è mostro. E' di costo. Che cosa è? No, non è costo. Ok, quindi... Vabbè. E' scatto. E' come fare. No, aspetta hai tre carte in mano. Perché hai tre carte? Perché hai pescato ora di lui. Allora... Ho pescato due? Due di queste? Ho scattato due? Avevi queste due carte? Hai pescato due? Ho scattato due. E ora ho pescato una. Tre. Perché hai pescato due? Di Bro. Di chi hai pescato? Di una di Bro e due di Strucicato. E' giusto. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Sì, ho fatto la Cepers. A te in mano quanto? Possiamo vincere. Ora nel golfo e nel scadente. Mi ha toccato due per te. E allora non lo so. Cosa brutto? Cosa? Che cazzo ce lo fa? Scendi? Senti! Senti, scendi. Senti! E' senti a mio cuore. Lui è un pochino. Ok. 1,2,3,4,5,6. che fa questo quando viene scartato e se va al cilitero un po' un po' e si infina le vasole e si rompe il culo il punto cade il cannone quindi è meglio che non fa nulla si, per il momento si ho fatto asci ceris quindi l'unica maniera è averli tipo di di che sul charge sul charge per fare una combo lui non la può fare ci verrà rimosso non fa un cazzo se riesci a mandarsi di grado a fare cosa al cilitero fa sul charge e ti inizio a fare una combo con quello te lo hai con un augurio come faccio? ah senza fare niente allora devi fare a bordo un uomo a bordo tipo duelle queste cose qua bravo ci hai fatto un cadaccio quel che c'hai che ieri è rimasto qualcosa a griffato ieri è rimasto un pallone per una carina ah finiti di vendita non lo so che cacchetto Dan guarda l'audio guarda l'audio guarda l'audio guarda l'audio guarda l'audio guarda esci dall'ottica fai qualcosa è un po' oscurita no 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 aspetta da 1 a 4 3 dico vieni aspetta vieni VINTO! Sele volte! Uno! Due! Alta! Eeeh! Tre! No! 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 13 15 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 18 19 19 20 21 Questa è la pericolosa? Il volso. Sì perché... Una ragazza... ...la scolla. Una. Non lo so. Non lo so. Vabbè, il problema ci ferma al momento. Non hai più paura? Non hai più paura, non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura, non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura, non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura, non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura, non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura, non hai più paura. Non hai più paura. Non hai più paura, 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 non hai più paura. Targhetto. Tiro. Dichiaro mostro. Si spacca. Papà, come ne ha spaccolato? Non cazzo. Ok. Dichiaro mostro. Faccio link. Set. Tiro. Allora. Non so se... Quindi tu quanto cazzo hai di... 3.000. 3.000. Hai 5.000 di... 3.000. Ok. Perfetto. Finito, è un po' sbagliato. Ho un punto che diceva 2. Inizio ne vuole 3. Inizio ne vuole 3. Inizio a 3. Inizio a 2. C'è 3. Perfetto. Perfetto. questo che fa un cazzo non mi fai danno 8.000 non te li faccio perchè non ho non c'è come di battaglia ma vabbè compa tanti ma ti sei impappinato perchè ti hai fatto un ripeto e quindi non sapevi e non hai fatto 104 anzi è che non è riuscito a tricchettare la fossa si mi negava una potevo giocare comunque perchè avevo la cosa per evocare gli forzavo tricchette poi facevo terreno quindi qualcosa facevo però magari ero con meno mostri e lui poi poteva giocare non c'è giocato l'altra mozza già l'avevo testo ma vabbè un po' facessi subito ti muovi frate devi dare una boffo ogni potetà dice frate ecco che mi losa te Lascio ogni volta dove si siede subito, lascio i piattellini, questi piattellini, quando manassi i sandwich di metri, 30 centosilo ognuno, ma dove li fai? Sì? Ma che son? Caramelo. Ma che stavo a contare? Eh? Non me ne volevo a contare. Tutto quello era da rispettante, quindi sono scaduto nel 2016. Sicuro? E io pure col che portava il mio angelo, voglio morire, voglio morire. E' un uccido. Questo credo è vero che mi abbia la mia. Perché mi hanno un amico. Ti va? Ti va, ti va, ti va. La terza è mia. Ti ti dico, sai, perché la tua prima è stata scaravata. Vabbè, Ciccianopoli così è fatti. Che schifo, che schifo, che schifo, Ciccianopoli, che schifo. Io ho sentito dove hai tu? Io pure. ma tutta la sigla che hai avuto in quello scorso match è una tutta ora minchia ma domani comitevoli che staccia facciamo fatto dopodichè è finito ciao ragazzi vediamo mi è voluto bene mi punterò l'ottica è il primo turno devi passare non devi fare niente e tu fare l'ottica ora compara c'è anche tutti chi deve avvi stare a pescare chi dice pesca 5 o 5 fortissimo non peschi adesso punterino perché si diceva cornuto è mazzato yes o deathmix io mette la ok che c'è niente ti piace il line mi è andato a fare così spazio mi è andato a fare così 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 vai ma che devo ancora aveva visto io ma che devo ancora aveva visto io ma che devo ancora aveva visto io mi è andato a fare così ti studio punterino ti sentito punterino Con chi è stato? Aspetta con l'ansia. Vabbè, allora ha vinto con me. Si, ha vinto con me. Questa è la cosa. Vabbè, c'è il tiglio, iniziamo con me. Vedremo Guccia. Mamma mia. Stai mettendo qua? No, è finito. Vedi, è finito. È sempre stato scarto con il mercato. Guarda, c'è un mazzo che è così veloce. Dove è forte. Eh? Si, si, è forte. Fortissimo. Vabbè, c'è l'effetto a ti. C'è l'effetto a ti. Non può fare che ti è forte. Non può, però non cosa hai visto fatto. Ho una mano di mezzo. È una mano per giocare 3-4 turni a te. Non può giocare neanche io. Ma non può. Ma se non puoi giocare tu non imposta. Attivo il Reborn. Reborn. Il Ghetto... Beh, si mi chiede che è grosso. Non lo metto in campo, non si sa mai. Vabbè, metti in attacco, va in cul. Anzi, io con le 1.8 in breve. Si. Questa. Vitto, vitto. Vabbè, attacco 1.8. Si. Ti tolgo 100. 2.000. 2.000. 2.000. Setto 1. Eh, passo. Vabbè, ho messo. Vedo come gioco se lo so... Beh, dove lo fate? E' perfetto. Ma era un Zolf. 1.2.3.4.5.6. Non lo fate. Esca una. E' una cosa migliore che poteva succedere... Fa' tipo Allure. Arr. Al buio. era al buio, si è rimasto al buio ma che attenzione fare? cosa potremmo fare? ma poi 3-4 c'è il berus, mi spacchi questo non sono da canta in mare ma sicuramente tanto beppe, sicuramente a provare a lavare il 2009 esatto mi ha fatto 2.000 di danno ma cosa che non è neanche come tu? è ugualmente grosso quando non riesce a togliero il 2009 mischiamo tentiamola solo speriamo che non ti capi esatto se pesco la terra no, mi serve 1-4-1 1-4-1 1-4-1 1-4-1 quindi questo sarà mischiamo che devo fare? ma si vai se vedo un po' era partito peccato peccato si stava aiutando però diceva a te me la vuoi? io lo toglierò ma no m***a peccato ma c'è il panico non le ho te ma te ho io non so se te che ti possa imparare un po' ma niente non c'ha già ora che ti possa imparare è questa ecco il rosso il cavallino è il secondo me è nuovo vai no l'altra volta manco una batto si hai che cos'è? mamma tu tu bambini ci pare mamma troia io non l'ho presa che cosa? che cosa? ma perché non hai fatto quello? non serve un cazzo ok lo fai per scremare il mozzo non ci sono ok l'ho si è vero così è più probito di pescare la gara perfetto lo annagghi annaggia penso si ma no non ce l'ho post dai vai che c'è in casa solo post vai lungo c'è che dove c'è un attacco ma si ma dove volte miglioriamo fortissima è finito ci stiamo poi di giocare foolish.spyvaldeck no vabbè so c'è l'attimo si si attimo foolish doppia foolish in un turno break my board zodia break my body break my foolish ti vado a salvare l'attivo un po' di effetto si ti vado a prenderci un po' di infinito in mano compa è vero vinto al cerviz ecco la marcia e due asce mi pare vabbè non è l'uomo 14 cerviz saldista davvero in mano prendo le pietre cerviz le metto le tere le metto le tere esatto così ti ti reasci così la persona vedo che c'hai qui vai 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 che arriva a stanza è a busta ma che non ti capo no si pensavo non ti hai fatto il danno vabbè 6 a 4 e 2 stiamo via perfetto già basta magia dichiaro magia dichiaro tra ah evoco lui effetto magia attacco guarda che evoco vabbè è schifoso nel cimitero sei schifoso frate